In questo video vedremo 25 tipi di personalità con cui è particolarmente difficile relazionarsi. Nella maggior parte dei casi queste personalità ci causeranno difficoltà sia per quanto riguarda relazioni personali e sia per quanto riguarda relazioni nel campo professionale. Ci sono ovviamente, come sempre, delle eccezioni per cui alcuni tipi di personalità potrebbero essere negative in campo affettivo ma positive in campo professionale e viceversa. Lo scopo di questo video non è quello di categorizzare i nostri amici e parenti uno ad uno, ma quello di analizzare noi stessi e cercare di capire se facciamo parte di una o più di queste categorie in modo da poterci poi lavorare sopra. Iniziamo subito. 1. Persona troppo emotiva Le persone eccessivamente emotive sono fra le più difficili con cui relazionarsi. In capo lavorativo, per esempio, decisioni emotive possono portare risultati disastrosi dato che spesso sono decisioni improvvisate prese sul momento senza supporto analitico dietro. Mentre in campo personale il pericolo principale nell'interagire con una persona troppo emotiva è quello di non poter aprirsi in modo sincero e dire esattamente quello che si pensa per non ferirla e causare una reazione esagerata. 2. Persona troppo competitiva Essere competitivi in generale può essere considerato un pregio, c'è da dire però che ci sono dei limiti al di fuori dei quali essere troppo competitivo può diventare dannoso e fastidioso. Il riferimento a quelle persone che vogliono sempre avere la meglio su tutto. Hai presente quando dici a un conoscente che hai corso i 100 metri in 15 secondi e lui ci tiene a far sapere che li corre in 14 secondi? O quando manifesti soddisfazione per un risultato tenuto ad un esame ed invece di complementarsi rimarca subito come lui abbia fatto meglio? Questo tipo di persone sono molto fastidiose in campo personale, mentre in campo lavorativo potrebbero in qualche circostanza portare dei risultati aumentando la competitività, sempre assumendo che le parole siano anche supportate dai fatti. 3. Persona troppo aggressiva Mentre è vero che le persone eccessivamente aggressive potrebbero ottenere qualche risultato positivo in un campo professionale poco qualificato, in cui l'autorità imposta si fa sentire di più, è anche vero che in un ambiente lavorativo qualificato questo comportamento aggressivo verrebbe spesso identificato dagli interlocutori come un modo per sopperire ad altre mancanze e potrebbe avere delle ripercussioni su chi si atteggia in tale maniera. Lo stesso per le relazioni personali, a nessuno piace passare il proprio tempo con una persona eccessivamente nervosa ed aggressiva. 4. Persona a rivista Avete presente quel tipo di persona che potrebbe anche essere interessante ma poi conoscendola bene ti accorgi che tutto quello che fai e dice ha come scopo quello di guadagnarci qualcosa? Avevo un conoscente che si comportava esattamente in questo modo ed il problema maggiore era che anche quelle volte in cui compievo un'azione apparentemente senza doppio fine diventava veramente difficile per me non pensare che in fondo in fondo lo facesse per un ritorno personale. 5. Persona falsa Su questo punto non c'è molto da dire, neanche il più masochista di noi vuole avere a che fare con una persona falsa di natura, anche perché queste persone difficilmente cambieranno riuscendo a diventare completamente sinceri. 6. Persona con attitudine negativa Questo tipo di persona vede sempre il lato negativo delle cose, il suo pessimismo è assolutamente tossico e di certo non è una persona con cui vogliamo passare il nostro tempo. 7. Persona eccessivamente passiva Avere a che fare con una persona eccessivamente passiva, sia sul lavoro che nei rapporti personali, molto spesso può causare frustrazione, in quanto essendo difficile capire ciò che questa persona stia pensando e l'incapacità o semplicemente poca voglia di manifestare le proprie opinioni, rischia di rendere il nostro rapporto con essa unidirezionale. 8. Persona che rifiuta ogni proposta Non importa cosa proponiamo, questo tipo di persona la troverà sempre un punto negativo in ogni nostro suggerimento, e la maggior parte delle volte senza proporre nessuna valida alternativa. Ogni scusa è buona per non fare qualcosa. 9. Persona poco chiara Che sia una relazione o un rapporto di lavoro è molto complicato avere a che fare con una persona con idee sempre vaghe ed incapace di prendere decisioni chiare evitando di perdersi in ambiguità. 10. Persona poco seria Personalmente amo moltissimo scherzare e poche cose mi rattristiscono di più di passare tempo con persone che non capiscono quando stai scherzando o non sanno stare allo scherzo. Detto questo, però, c'è tempo per scherzare e tempo per avere conversazioni serie. Sia sul lavoro che nelle relazioni personali può essere molto frustrante avere a che fare con qualcuno che scherza in continuazione senza riuscire a cambiare marcia ed è completamente incapace ad affrontare un discorso in maniera seria. 11. Persona che crede di sapere tutto Solo le persone ignoranti credono di sapere tutto. Generalmente le persone più intelligenti sono quelle che dubitano in continuazione di loro stesse, anche quelle caratterialmente più fiduciose. In campo lavorativo è specialmente difficile avere a che fare con questo tipo di persone perché non sono disposte ad imparare o a migliorarsi credendo di non averne bisogno. Con questo approccio rischiano di limitare seriamente la loro crescita e restano chiuse in loro stesse. 12. Persona non affidabile Prendiamo per esempio una relazione amorosa. Volete veramente iniziarne una con una persona di cui non potete fidarvi? Una persona che un giorno vi dice una cosa e il giorno dopo ne fa un'altra. Mentre non è un dramma sorvolare sulle piccole cose, è anche vero che col passare del tempo questi comportamenti inaffidabili spesso si espanderanno anche a situazioni più importanti dato che difficilmente questo tipo di persone cambierà col passare del tempo. Evitate. 13. Persona arrogante C'è una sottile differenza fra l'essere sicuri di se stessi e l'essere arroganti. Spesso il passo fra l'uno e l'altro è molto breve ma può creare seri problemi nelle reazioni che vengono a crearsi. A nessuno di noi piace una persona arrogante che si crede superiore e allo stesso tempo tutti noi siamo attratti da persone sicuri di se stesse. Riuscire a distinguere in che categoria cade la persona che abbiamo davanti ci aiuterà a comportarci di conseguenza. 14. Persona troppo onesta Diciamo che questo è un difetto per modo di dire, ma può dare molto fastidio a volte. Per persona troppo onesta in questo caso intendo quella persona che tende a dire sempre quello che pensa senza pensarci due volte causando spesso situazioni imbarazzanti. Chi non ha quel parente che quando ti vede non perde un minuto a rimarcare come ti vede ingrassato, come abbia notato la tua calvizia che avanza o sottolinea in continuazione il fatto che a vent'anni tu non abbia ancora la fidanzatina, come se questo fosse un difetto. Questo comportamento risulterà particolarmente fastidioso in presenza di altre persone a noi cari, dato che ci sentiremo come se avessimo a che fare in continuazione con una mina vagante pronta a sparare la cavolata di turno ad ogni istante. 15. Persona troppo sensibile Interagire con persone eccessivamente sensibili può essere incredibilmente frustrante. Il problema principale con questo tipo di persone è che non è disposto a subire alcun tipo di criticismo, il che significa che l'unico modo che hanno di crescere e migliorarsi è quello di affidarsi alle esperienze fatte direttamente sulla loro pelle. Un altro problema è che spesso per evitare contrasti ci troveremo ad esimerci dall'essere completamente aperti ed onesti con loro dato che oltre ad essere sensibili sono spesso persone molto permalose. Inutile dire che questo loro atteggiamento non solo non giova a noi ma soprattutto non giova a loro. 16. Persona che cerca sempre una scusa Poco da dire, se seguite questo canale sapete già che una delle piaghe peggiori è essere la tipologia di persona che invece di prendersi le proprie responsabilità passa il tempo a cercare ogni scusa possibile e inimmaginabile per giustificare le proprie sconfitte. Evitate di perderci dietro tempo se potete. 17. Persona disonesta Se una persona è stata disonesta in passato è appurato che molto spesso sarà solo questione di tempo prima che commetterà gli stessi errori nuovamente. Ci sono ovviamente delle eccezioni ed è sempre giusto dare una seconda possibilità a tutti ma fate attenzione a non rimanerne scottati. 18. Persona bugiarda Stesso discorso fatto per la persona disonesta, tutti noi prima o poi abbiamo detto qualche bugia ma c'è chi sembra farlo per professione. Consiglio spassionato evitate. 19. Persona egoista Evitando di quotare le ovvie ragioni per cui avere una relazione con una persona egoista può darci dei grossi mal di testa, preferirei concentrarmi sulla distinzione fra egoista positivo ed egoista negativo. Prendiamo come esempio una squadra di calcio in cui abbiamo un fuoriclasse che vuole vincere a tutti i costi per la gloria personale. In questo caso il suo essere egoista potrebbe avere degli effetti benefici anche sul resto dei compagni, dato che la sua determinazione a raggiungere certi obiettivi a fine personale sarà così grande che automaticamente trascinerà i propri compagni a successo. Questo è un caso in cui avrà a che fare con una persona egoista possa indirettamente portare dei risvolti positivi. Quando però il voler vincere a tutti i costi porta la persona in questione a farlo a discapito di altri colleghi, allora in questo caso l'egoismo sarebbe totalmente nocivo per gli altri, sarebbe egoismo puro e assolutamente tossico come lo conosciamo. Vogliamo fare molta attenzione e, dove è possibile, evitare quest'ultimo profilo. 20. Persona non disposta a migliorarsi Per molti, sia nelle relazioni private che in campo professionale, può diventare veramente fastidioso doversi relazionare con persone che non hanno il minimo desiderio di migliorarsi in nessun campo, non solo perché fanno del danno se stesse limitando la loro crescita, ma perché spesso queste persone sono così ottuse che l'unica cosa che sanno fare sarà criticare chi prova a fare qualcosa di utile. È comunque consolante pensare che quasi certamente chi si approccia alla vita con questa mentalità non convinerà nulla di utile e passerà il suo tempo nella propria mediocrità. 21. Persona che pensa in piccolo Mentre questo non è necessariamente un difetto in campo privato, dato che lo scopo principale della vita è essere felici e passare il tempo con chi ci fa stare meglio, e questo non implica che chi abbiamo davanti deva per forza essere una persona super ambiziosa e intelligente. In campo professionale però il pensare in piccolo può senz'altro portare delle limitazioni di crescita dell'individuo, specialmente in ruoli di responsabilità. La gran parte delle persone sa quello che farà fra 1, 2, 6 mesi o al massimo un anno, ma non ha una reale visione di ciò che vuole essere in 5, 10, 20 anni, e di sapere pensare a lungo termine è un elemento fondamentale in alcuni settori lavorativi. 22. Persona mai contenta Alcune persone sono incontentabili. Non importa cosa fai, quanto sacrifichi per loro o quanto impegni ometti per soddisfarle. Per natura questo tipo di persone troveranno sempre una ragione per non apprezzare ciò che viene fatto per loro. Sta a te decidere se vale la pena passare il tuo tempo dietro a questo tipo di persone. 23. Persona che cambia idea in continuazione Probabilmente il massimo dell'inaffidibilità. Un giorno vogliono diventare dottori, il giorno dopo avvocati. Un giorno ti amano, il giorno dopo ti odiano. Più confusi di un gelataio al polo nord, per colpa del loro carattere insicuro tendono a prosciugare le energie di chi gli sta intorno rischiando ben presto di perdere persone che potrebbero invece portare cose positive nella loro vita. Fate le dovute eccezioni, se avete a che fare con questo tipo di persona eviterei di mettere eccessivo impegno nel coltivare un'eccezione o un'amicizia in quanto non potrete mai fidarvene completamente. 24. Persona che attira a guai Quando avete a che fare con questo tipo di persona cercate di ridere finché potete, ridere per non piangere si intende. Nati sulle orme di fantozzi sembrano attrarre ogni sorta di sfiga e di certo la loro attitudine verso la vita non li aiuta ad uscirne. Il problema è che passando troppo tempo con loro e i loro continui problemi o presunti tali rischiereste di uscirne contagiati. 25. Persona che crede di essere perfetta Oltre che peccare d'arroganza, la persona che crede di essere perfetta, e quindi al di sopra degli altri, crederà anche di non aver bisogno di migliorarsi. Spesso è inutile provare ad avere qualsiasi sorta di dibattito o discussione con questo tipo di persone, perché non saranno comunque disposti ad approcciarlo in modo aperto e sicuro, non saranno disposti a cambiare la propria opinione su un qualsiasi argomento. Morale della favola, ognuno può avere i propri punti di forza in specifici settori, ma nessuno è perfetto, impariamo ad accettarlo. Se ti è piaciuto il video sarei grato se potessi mettere un like e condividerlo se pensi che qualche tuo amico possa trarne beneficio. Se vuoi vedere altri video come questo in futuro e non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale cliccando il tasto rosso sotto a destra e attiva la campanella di notifica, in questo modo verrai informato ogni volta che un nuovo video verrà caricato sul canale. Buona giornata!